Benvenuti alla nostra festa di Halloween! Ma Giulia, non abbiamo i costumi! Tranquilli, ci penso io! Ecco fatto! Brava Giorgia, ma come ci sei riuscita? Che bei costumi! Te lo spiego dopo! Bene, ora che siamo tutti pronti, diamo il via alla festa di Halloween! Allora iniziamo con un gioco di gruppo! Chi lo farà meglio parteciperà al gioco successivo! Ma Amelia, ci serve una giuria che sceglie il vincitore? No, no, arriverà una busta dall'allergia, proprio come in televisione! Wow, che organizzazione! Ehm, scusate se vi interrompo! Avete visto che cosa c'è lì? È una bara? Certo Giulia, e indovina cosa ci sarà dentro? Oh oh, non ci sarà mica un... Morto! Cosa vuoi che ci sia in una bara? E chi perderà l'ultimo gioco dovrà aprirla! Oh mamma, non vorrei essere io! Dai, iniziamo con il primo gioco, la condurrà Chiara! Verrà messa una musica e Chiara vi darà dei comandi da eseguire! I migliori verranno scelti dalla regia per il gioco dei pacchi! Pronti? Giochiamo a GiocaGio e Halloween Tab! Vai Chiara! One, two, three, quattro! Vampiro! Fantasma! Zombie! Scheletro! Pirata! Impiccato! Ragno! Mumia! Pipistrello! Precipitare! Buio! Precipitare! Precipitare! Turrata! Ciao! Ciao! Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio! Ricordatevi che si parte sempre da Vampiro! Fate attenzione alla differenza tra zombie e scheletro! E nel finale fate bene i saluti! Giochiamo a Gioca2 e Halloween Tab! Vampiro! Fantasma! Zombie! Scheletro! Pirata! Impiccato! Ragno! Mumia! Pipistrello! Precipitare! Buio! Gerore! Ciao! Ok ragazzi, ora più veloce! Siete pronti a questa nuova sfida? La giuria deciderà il migliore tra voi che proseguiranno con il prossimo gioco! Ultimo giro di Giochiamo a Giochiamo a Giochiamo a Halloween Tab! Vampiro! Fantasma! Zombie! Scheletro! Pirata! Impiccato! Ragno! Mumia! Pipistrello! Precipitare! Buio! Gerore! Ciao! La festa di Halloween continua nel prossimo video! Col gioco dei pacchi! Guardatelo!